Salve, bentrovati a tutti quanti. Ho intenzione di fare una serie di video in cui mi occuperò della lettura di un libro, un paio di capitoli in particolare. Il libro di cui sto parlando è questo, I figli dell'Apocalisse, è il titolo del libro, un libro edizione Armenia, scritto da Jean-Marie Abgral, francese, uno scrittore francese, ma parliamo di un libro redatto e scritto nel 2000, quindi ben 19 anni fa, quasi 20 anni fa, insomma. Quindi tenete presente quando lo leggerò, quando nel leggerlo si farà di riferimenti, pensate che è stato scritto circa 20 anni fa. Il libro, questo libro in particolare, quindi intitolato I figli dell'Apocalisse, in realtà analizza le paure del 2000, tutte le paure del 2000 che 20 anni fa c'erano nell'aria, il terrore per la fine del mondo e le sette del male che lo alimentano. E quindi si parlerà di questa paranoia, conosciuta con tanti termini, ma di questa benedetta fine del mondo che alcune sette religiose americane continuano a sostenere e profetizzare e propagandare. Il libro all'interno si sottotitola L'uomo e l'ignoto. Ha i suoi vari capitoli, ha un'introduzione ovviamente molto importante, questa introduzione rende un po' l'idea di cosa stava accadendo verso la fine del XX secolo e poi è diviso in parti. La prima parte, per esempio, ha come tema assetati di soprannaturale e di sottomissione. E vi sono una serie di capitoli di cui il primo capitolo di questa prima parte ha come titolo dal discepolo allo schiavo. Ma noi, io, salterò direttamente questo primo capitolo per passare al secondo e vi leggerò a puntate il secondo e il terzo capitolo. Quindi fate finta che si tratta di un audiolibro che durerà alcune puntate. Ovviamente non potrò leggere di seguito il capitolo per intero perché è un po' lunghetto e quindi il video risulterebbe lungo e magari un po' noioso. Per cui per chi ama gli audiolibri probabilmente troverà interessante questa lettura che cercherò di fare. Insomma, io non è che non sono un lettore per audiolibri, ovviamente, ma mi sforzerò di leggere con un'enfasi più adeguata. Quindi il secondo capitolo, volete sapere il titolo del secondo capitolo, stiamo parlando di paranoie, quindi di sette che alimentano il soprannaturale, la sottomissione, ma che alimentano il terrore della fine del mondo. Le sette del male. Testimoni di Geova. Testimoni di Geova. Il capitolo comincia così. Per molte persone, ricordate che si tratta di un libro scritto circa vent'anni fa. Per molte persone i testimoni di Geova rappresentano un nuovo movimento religioso che gode, per questo motivo, vent'anni fa, di una certa indulgenza e di una relativa comprensione. Eppure questo non è il parere della commissione parlamentare d'inchiesta sulle sette che li annovera con cognizione di causa nella sezione delle sette con più di centomila membri. Lo scrittore è francese, quindi si sta parlando della Francia, non dell'Italia, non dei parlamentari italiani, ma del Parlamento francese che annovera questa organizzazione tra la sezione delle sette. Con quasi centoquarantamila predicatori, mille e cinquecento congregazioni, una crescita annua pari, insomma qui vi riporta adesso una serie di cifre che saltiamo. È a partire dal 1870 che Charles States Russell, fondatore del movimento, inizia a predicare i principi attorno ai quali verrà creata la Zion Watchtower Society, società torre di guardia di Sion, Sion, Sion. Sì, stiamo parlando di sionismo, che più tardi si trasformerà nei testimoni di Geova. Si trasformerà nei testimoni di Geova. Nato nel 1852 ad Allegheny, Russell, in Pensilvania, e Russell è turbato dai dogmi dell'inferno, dalla predestinazione che sono quelli dei presbiteriani, della chiesa riformata, alla quale quindi Russell odiava l'inferno, era perseguitato da questa, era turbato da questo dogma dell'inferno. Quindi sono quelli dei presbiteriani, della chiesa riformata, alla quale appartiene la sua famiglia, insomma, la famiglia di Russell, quindi la famiglia di Russell è una famiglia di presbiteriani. Il suo scetticismo di Russell verso i presbiteriani lo porta a frequentare altri movimenti religiosi. Nel 1870 si unisce a un gruppo avventista, dal quale attingerà le dottrine apocalittiche, che diventeranno quelle dei testimoni di Geova. È attirato dalla visione avventista, del sonno dell'anima dopo la morte, quindi dell'anima che non va da nessuna parte, insomma, preferisce questo tipo di dogma piuttosto che pensare di andare all'inferno. Quindi si è scelto, diciamo, un credo adatto alle sue paure, il signor Russell. È attirato dalla visione avventista, del sonno dell'anima dopo la morte, così come dal concetto di inferno descritto come il soggiorno dei morti, ma è affascinato soprattutto dalla convinzione dell'imminente ritorno del Cristo, tipico degli avventisti. Abbandonata la chiesa presbiteriana, dunque, Russell partecipa con assiduità alle riunioni animate da Jonas Wendel, pastore della chiesa cristiana avventista. Sottotitolo, Prima e seconda Apocalisse. Continuo la lettura. Convinto della validità della sua interpretazione numerologica, convinto della validità della sua interpretazione numerologica della Bibbia, mediante la quale vede il ritorno del Cristo e la fine del mondo per il 1874. Quindi una prima data sparata da Russell come data della fine del mondo. 1874. Russell entra in conflitto con la chiesa cristiana avventista. Contrariamente a quest'ultima, egli ha la certezza che un credente abbia l'obbligo di conoscere il nome sacro di Dio se vuole essere salvato, e qui la fissazione di quel Geova sempre in bocca, no? Per lui l'interpretazione del tetagramma divino e dei diversi nomi attribuiti al creatore nella Bibbia è unica, Geova. E' questo nome intangibile che caratterizza i futuri testimoni e che costituirà la forza unificante sacra del gruppo. Sfortunatamente per Russell e per gli studenti biblici che ricalcano le sue orme, il 1874 trascorre senza che si verifica il cataclisma annunciato. Primo fallimento, prima profezia fallita degli studenti biblici. La terra è sempre là, le di Armageddon non suonano. La rottura con la chiesa cristiana avventista è definitiva. Molti studenti si disperdono, ma i fedeli tra i fedeli continuano a leggere e a rileggere la Bibbia per decifrarvi l'approssimarsi dell'Apocalisse. La storia dei testimoni di Geova si distinguerà per questa ricerca incessante e per i ripetuti fallimenti che peraltro non intaccheranno la convinzione dei testimoni di poter calcolare con precisione il ritorno di Cristo in gloria. Cioè, proprio malati mentali, nonostante i continui fallimenti, non intacca la loro... non intacca minimamente. Questo non fa riflettere nessuno, come per dire, ma questi fallimenti forse vogliono dire qualcosa. Vabbè, Russell e gli studenti biblici hanno allora un'idea brillante. Russell e gli studenti biblici hanno un'idea brillante. Certo, la terra non è stata distrutta. Certo, l'Apocalisse non si è verificata come previsto nel 1874, ma il Cristo è realmente ritornato, cioè deve essere per forza ritornato, dissero allora sulla terra, sotto un involucro sicuramente invisibile all'insaputa dei miscredenti. Con questo adattamento dottrinale, a partire dal 1799, pensa a 1799, il mondo è sicuramente entrato nel tempo della fine, diceva Russell e i studenti biblici. Nel suo libro, I tre mondi, nel libro di Russell, scritto da Russell, fornisce tutte le date del caso. Tutto il calcolo, tutto il ragionamento cronologico. La prima risurrezione dei cristiani morti avverrà nel 1878, quindi spara una seconda data dopo quattro anni. I tempi ultimi e il tempo dei gentili si realizzeranno nel 1914, con la distruzione di tutte le nazioni e avvenimenti che segnerà l'inizio del millennio. Quindi ecco la seconda apocalisse prevista da Russell, 1914. Nell'attesa, nel 1879, debutta la pubblicazione del periodico Zion Watchtower. Nel 1889 è la volta della costruzione della Casa della Bibbia, sede centrale della società ad Allegheny in Pennsylvania, nel 1891, primo viaggio di Russell all'estero. Nel 1900, prima filiale aperta a Londra, nell'arco di trent'anni. Russell predica le sue idee di apocalisse di risurrezione, si attribuisce un ruolo profetico e messianico annunciando la fine dei tempi e l'armageddon. Quindi sicuramente parlava di benedizioni, visto il suo espandersi. Ma l'orologio dell'apocalisse è disperatamente impreciso. Se il 1914 vede l'inizio della prima guerra mondiale, il millennio si fa attendere. In questa occasione, nel suo secondo fallimento profetico, l'associazione utilizza una nuova tecnica di propaganda, la cinematografia. Il suo film, Fotodramma della Creazione, ancora oggi posseduto dagli studenti biblici, ancora loro hanno il diritto di autore su questo fotodramma, non ce l'hanno i testimoni di Geova, questo fotodramma, proclama la fine del tempo dei gentili. Poiché gli annunci di Russell si rivelano ancora una volta errati, la società della Torre di Guardia è costretta nuovamente, è costretta nuovamente a ricalcolare le date dell'apocalisse, lungi da far vacillare le convinzioni dei futuri testimoni di Geova. Il cambiamento di data li stimola, cioè pensate, il cambiamento, questi non sono normali, no, sono da TSO. Questo ulteriore fallimento li stimola e rende più salda la loro fede, cioè anziché dedurre che sono dei cialtroni, no, li stimola e rende più salda la loro fede. Ma, vabbè, se il 1914 non ha avuto la dimensione apocalittica prevista da Russell, è pur sempre scoppiata la guerra. Beh, si consolano così, si consolarono così. Ah, dici, però è venuta la guerra, la prima guerra mondiale. Una prova che le forze del male, beh, tutto col senno di poi, col senno di... si sono diffuse sulla Terra. Pertanto, il 1914 non è più un risultato, bensì un presagio. Ah, un segno inviato agli uomini perché comprendano che la fine è vicina. La ricomposizione dottrinale non scalfisce, pensate, la rincomposizione dottrinale non scalpisce lo slancio della Zion Tower Truck Society, cioè la casa editrice della Torre di Guardia di Sion, fondata nel 1881, riconosciuta giuridicamente nel 1884, dopo la fusione con la Watchtower Bible Society, perché qui sono tanti enti, tante associazioni che si fondono insieme, tante società, società, non associazioni, società. Watchtower Bible Society, Society, è della Tract Society of Pennsylvania, un'altra casa editrice della Pennsylvania. Al contrario, la società evolve in modo sistematico. Al contrario, si evolve in modo sistematico, cioè i fallimenti non si contano più, ma questi si evolvono in modo sistematico. Gli adepti si organizzano in ecclesia, gruppi per lo studio delle scritture, e Russell percorre il mondo in lungo e largo per esporre le proprie idee e fare proseliti. Nel 1916, anno della morte di Russell, le ecclesie che riuniscono gli studenti biblici sono 1200. Il vecchio avvocato, Joseph Franklin Rutherford, gli succede il 6 gennaio 1917, nonostante la forte opposizione dei vertici dell'associazione. Rutherford non lo voleva nessuno, insomma. Di fatti, tra gli studenti biblici ancora oggi si racconta che Rutherford si impossessò della presidenza dell'associazione tramite un modo furtivo, insomma, furtivamente. Nato nel 1869, nel Missouri, Rutherford ben presto si rivela uno scrittore prolisso e indeciso. Le sue predizioni si susseguono e si contraddicono. È vero che il giudice è disturbato dai volta faccia del suo predecessore. Si vede costretto a salvare capra e cavoli, o più esattamente, i fallimenti profetici e l'inesatta interpretazione delle scritture. Per lui, il 1914, beh certo, detto dopo, non segna la fine dei tempi, grazie, non sono arrivati, cioè, minchino, non è che sarebbe una scienza, no? Nel 1917 mi dici che cosa è successo il 1914. Quindi per lui non segna la fine dei tempi, bensì il loro inizio. Ed è questa idea che prevale ancora oggi, vent'anni fa, perché ulteriormente i testimoni di Geova hanno dovuto modificare ancora questo aspetto teologico, per forza, come loro costume e uso. Ed è questa idea che prevale ancora vent'anni fa presso i testimoni di Geova. Per i testimoni odierni, di vent'anni fa, in realtà la fine dei tempi ultimi giungerà il giorno in cui morirà l'ultimo sopravvissuto, questo dicevano negli anni 80 e 90, l'ultimo sopravvissuto del 1914. In quell'anno appunto si è scatenata una battaglia tra le forze del bene e del male e Satana è stato precipitato sulla Terra. Da ciò provengono tutti i mali del pianeta, come se prima i mali non c'erano. No, prima non c'erano. Prima del 1914 la Terra era un paradiso. Vabbè, da ciò provengono tutti i mali del pianeta e in particolare il primo conflitto mondiale. No, no, ma prima del 1914 la Terra era un paradiso. Zero guerre, tutti scoppiavano di salute, c'era benessere e longevità. Prima del 1914. La terza apocalisse. Ma vediamo Rutherford, quali so, perché qua ogni presidente spara le sue profezie, un po' come i presidenti americani, che ogni presidente americano deve fare la sua guerra, insomma. Quindi nel 1920 Rutherford pubblica un opuscolo, quello che a me fa ridere tanto, il titolo, dal titolo. Milioni ora viventi possono non morire mai. Certo, come no. Nel 1920 milioni ora viventi non morranno mai, disse Rutherford, nel quale profetizza la resurrezione dei giusti e l'inizio del millennio. Possiamo aspettarci, scriveva nell'opuscolo Rutherford, possiamo aspettarci con fiducia che il 1925, eccola un'altra data, un'altra profezia, un'altra data di apocalisse, segni il ritorno allo stato di perfezione umana di Abramo, Isacco, Giacobbe e altri antichi profeti. Eh sì, dovevano anche, nel 1925 tutti questi profeti dovevano risorgere ed essere ospitati in quel villone dove Rutherford faceva le vacanze. Adesso mi sfugge il nome. Vabbè, nel 1924 i testimoni di Geova intensivano, ovviamente ogni volta che c'è la preannunciazione di una fine dietro l'angolo, che fanno i testimoni di Geova? Lo fanno ancora oggi. Intensificano la loro propaganda e addirittura inaugurano la stazione radiofonica WWWBR a New York e eppure, come già accadde con gli annunci di Russell, anche quelli di Rutherford non si realizzarono. Ma la fede, questi sono contro natura proprio, no? Ma la fede della grande massa degli studenti biblici non vacilla in noi. Cioè, voglio dire, questi che continuano a fallire, questi cialtroni, ma in modo innaturale, contro natura, la fede della grande massa degli studenti biblici non vacilla per questo ennesimo fallimento. Tuttavia, la società della Torre di Guardia è scossa da sussulti. Ah beh, meno male. Nel 1931, durante il congresso internazionale dell'associazione, della società, che si tiene a Columbus, si ha uno scisma. Si dividono. In questo punto, gli studenti biblici si frammentano. I fedeli tra i fedeli, le pecore docili, seguono il pastore Rutherford, senza criticare la sua fede e le sue predizioni, e prendono il nome di testimoni di Geova. Ovviamente dovevano per forza cambiare nome, perché in questo caso c'era questa scissione, questa divisione di frammentazione di gruppi, e dovevano necessariamente scegliersi ciascuno di questi gruppi che si formarono in questa fase. Ogni gruppo doveva scegliersi un nome, comunque. Una parte della vecchia associazione si dissocia, però, e conserve il nome di studenti biblici, che ancora oggi esistono. Piccolo gruppo, ma esistono. E seguono ancora, grosso modo, le teologie, le dottrine di Rutherford. Perdonatemi, di Russell, non di Rutherford. Mentre Rutherford, le dottrine di Rutherford sono seguite dai testimoni di Geova. Ecco perché è più corretto dire che i testimoni di Geova discendono da Rutherford. Perché si sono allontanati dalle dottrine di Russell. Gli studenti biblici invece conservano e seguono ancora le dottrine di Russell. Rutherford dà allora al movimento una struttura teocratica. Quindi Rutherford adesso organizza e forma questa associazione. Quindi vediamo che in questa fase Rutherford comincia a strutturarsi. Dà allora al movimento una struttura teocratica con una disciplina quasi militare. Io toglierei il quasi. E nel contempo rafforza la coesione attorno all'idea di gruppo eletto. Nel 1935 la grande folla, citata dall'Apocalisse, viene identificata come un gruppo che vivrà in eterno sulla terra. Invece il servitore fedele, lo indicato nei Vangeli, diventa un personaggio collettivo. Tra l'altro oggi questo schiavo e il discreto non si chiama più così. Hanno ulteriormente modificato il credo. Adesso si chiama saggio, non più il discreto. Vabbè, ma questo è un altro dettaglio. L'organizzazione stessa, l'organizzazione stessa dei testimoni di Geova, si fonda, vent'anni fa, su questo concetto. Il cambiamento dottrinale consente di far coincidere, attenzione, vi ripeto la frase, questo cambiamento dottrinale, perché questo è un cambiamento dottrinale entrato in vigore nel 1935, cioè la creazione dei due gruppi, grande folla, unti, cioè santi che dovevano andare invece, quindi grande folle sulla terra, i santi invece in cielo. Il cambiamento dottrinale consente di far coincidere la dottrina con le scritture. Attenzione, far coincidere la dottrina con le scritture. E perché? Nel 1935 il numero dei membri raggiunge quota 30.000. Convinti che per gli eletti il numero dei posti in cielo a sedere sia limitato a 144.000, dice qua stiamo diventando troppi. Dove ci mettiamo tutti quanti? In cielo solo 144.000 devono andarci. Quindi i testimoni di Geova si vedono costretti a trovare un sotterfugio matematico e teologico per sostenere la crescita troppo rapida dell'associazione. Ecco, così ci stiamo bene tutti, insomma ci stiamo dentro, la grande folla senza numero sulla terra, voi rimanete qua. In cielo invece c'è un gruppo di una classe di unti santi che si autodefiniscono unti e santi che saranno destinati in cielo e che dovrebbero rimanere in quel numero indicato 144.000. Va bene. E quindi questa viene appunto definita un sotterfugio matematico e teologico per sostenere quello che stava accadendo, per far quadrare i conti insomma, come dico sempre io. L'adattamento riuscito tra dottrina ed espansione del movimento rafforza, rafforza il proselitismo. La predicazione di casa in casa diventa non solo una forma di evangelizzazione, quindi la predicazione non è una... inizialmente era una forma di evangelizzazione a livello personale, ma anche un obbligo del gruppo. A questo punto diventa obbligatorio andare a bussare di porta in porta se vuoi essere testimone di Geova, altrimenti il titolo lo perdi. Tuttavia alcuni testimoni restano fedeli al pensiero originario di Russell e quindi l'associazione a questo punto, come accennato prima, conosce una serie di divisioni. Nascono i rasseliti, che darà luogo alla chiesa cristiana millenarista, al movimento missionario interiore, laico, e alla chiesa del regno di Dio. Queste sono tutte organizzazioni religiose nate da sotto agli studenti biblici. Quindi dagli studenti biblici non derivano soltanto i testimoni di Geova, ma anche questi gruppi religiosi appena citati. La quarta apocalisse. Nel 1942, alla morte di Rutherford, è Nathan Knorr, nato nel 1905 in Pennsylvania, che gli succede. La sua presidenza si traduce in un impegno rivolto all'organizzazione. Istituisce in ciascuna congregazione un programma di formazione in arte oratoria e predicazione, chiamata come scuola teocratica. Senza avere più successo dei suoi predecessori, anche lui, anche lui, annuncia la fine del mondo per il 1900. Ve l'ho detto, ogni presidente, come i presidenti americani fanno, ogni presidente americano fa la sua guerra. Anche i presidenti dell'associazione, di questa associazione americana, quindi proprio stessi problemi, anche lui annuncia la fine del mondo per il 1975. Dal 1942, infatti, al 1977, rende sistematica la pratica del proslitismo e fa passare il numero dei predicatori da 100.000, da 100.000 a 2.200.000. Ecco a cosa servono queste annunciazioni di fine del mondo. Servono ad intensificare l'attività di propaganda e creare nuovi proseliti. Così funziona. Il numero dei paesi evangelizzati passa da 56 a 216. Sviluppa l'attività missionaria fondando la scuola di Galad per i missionari, per formazione di missionari. Alla sua morte nel 1977 gli succede il quarto presidente dei testimoni di Geova, nato nel 1893 nel Kentucky, Frederick Franz. Ha visto nascere l'associazione e gode di un prestigio sicuro. Gli adepti lo vedono come un erudito e come una memoria vivente. Presiede il corpo direttivo o collegio degli anziani. Sotto la sua influenza, l'associazione si dà una struttura più da multinazionale, invece che da chiesa. Muore nel 1992 e Milton Ancel gli succede e deve affrontare però una crisi dottrinale. Ancel arriva in un momento brutto. Deve affrontare una crisi dottrinale e organizzativa nata dalla opposizione del nipote del defunto Franz. Stiamo parlando di Raymond Franz, dimissionario nel 1980 dal collegio centrale. Fu lui che diede vita a quel libro che ancora oggi è in circolazione, un grande testo, Crisi di coscienza, che suggeriscono molti di procurarsi e leggere. La crisi quindi covava dalla delusione nata dal fallimento della profezia del 1975. Ripeto, la crisi covava già dalla delusione nata dal fallimento del 1975 che aveva provocato un netto calo dei proseliti dell'associazione che dal 9,7% del 1975 erano passati all'1,4% del 1978. Ebbè, queste cifre in realtà evolvono al ritmo con cui vengono annunciate le date dell'Apocalisse. Vedete? Queste cifre si evolvono al ritmo delle date in cui si annunciano questi Armageddon. Funziona, funziona sempre. Vedasi, per esempio, l'impennata negli anni dal 1923 al 1924 e in seguito nel 1974 con un più 13,5%. La moltiplicazione dei fallimenti profetici fa vacillare la fede. Insomma, cominciano ad essere davvero tanti questi fallimenti profetici degli adepti. Se gli annunci del 1874, 1914, 1925 hanno potuto essere reinterpretati, dando luogo a un rimpasto dottrinale, quello del 1975 sembra aver esaurito la dose di fiducia dei testimoni, stanchi di attendere l'ora del giudizio. L'evoluzione dei testimoni di Geova, come quella di altri gruppi sorti dall'avventismo, è quindi irregolare, dove le fasi di dubbio si succedono a quelle di un risveglio della fede e le fasi di adesione a quelle di dimissioni. È vero che la nascita delle convinzioni è spontanea all'avvicinarsi di una data profetica, oppure organizzata dalla gerarchia mediante compagnie, campagne di evangelizzazione o attorno ad un venimento come la pubblicazione di libri culto quali la traduzione del nuovo mondo, versione geovista della Bibbia. Termino qui questa fase di lettura di questo capitolo, prossimo passaggio. Passeremo al sottotitolo La concezione millenarista, sempre riferita ovviamente ai testimoni di Geova. Un saluto, alla prossima!